Carissimi amici, e chiaramente carissimi amiche bentornati sul mio canale. Prima di cominciare con il tema odierno vorrei pregarvi per cortesia di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella così non vi perdete più neanche un video e mi sostenete. Per voi sono solo due clics che non vi costano niente e per me è un grande sostegno quindi mille grazie in anticipo. Argomento del giorno le dichiarazioni di Ursula von der Leyen a Lampedusa ma ovviamente c'è di più credo che il titolo del video sia più che eloquente. Cominciamo però con UVDL o come si dice qui UVDL. Mi fa piacere, mi fa immensamente piacere che la Presidente della Commissione Europea abbia riconosciuto il carattere criminale dei trafficanti di esseri umani e abbia ammesso che sia necessario limitare la migrazione e contrastare l'immigrazione illegale. Bene perché fino a ieri era una cosa impossibile da pensare. Dal 2015, dall'apertura illegale delle frontiere decisa dalla cancelliera dalla figura invidiabile, è in Germania di fatto proibito mettere in discussione l'immigrazione incontrollata di massa e la cosiddetta cultura di benvenuto. Se uno alza la voce più di tanto o dice una parola sbagliata rischia di incappare in una trappola giuridica composta da due leggi distopiche che fanno impallidire la legge Bancino. La mia domanda però è come concilia Ursula questo cambio di paradigma con il dato di fatto che il governo tedesco finanzia le ONG sia indirettamente tramite fondazioni per esempio la fondazione Conrad Tadenaua, la fondazione Armadio Antonio eccetera sia direttamente dall'erario statale. Solamente per la ONG United for Rescue il governo preceduto dalla seconda reincarnazione di Gargamella dopo Pierluigi Bersani ha stanziato 2 milioni di euro all'anno fino al 2026 quindi non stiamo parlando di noccioline. Detto questo non è un caso che le ONG non solo non riportano i migranti clandestini indietro nel nord Africa ma li portano solo in Italia non in Grecia non in Spagna. E le attività delle ONG non si limitano al cosiddetto scafismo c'è un'intera rete di ONG che fanno propaganda diretta pro migrazione in Africa e nel Medio Oriente e altre ONG che mettono a disposizione ai migranti e ai clandestini fior di avvocati ovviamente per questi a costo zero paga il contribuente. In sostanza ci sono due paesi che stanno letteralmente sabotando e destabilizzando l'Italia usando la migrazione di massa come arma proprio contro il governo Meloni e forse voi vi stupirete ma questi due paesi sono la Germania e la Russia. Dietro i colpi di stato nei paesi del Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso e via discorrendo ci sono i miliziani russi non solo la Wagner che mettono in movimento mezzo continente africano. Sì nel 2010 era la cosiddetta primavera araba fomentata dagli americani ma anche dai francesi ma nel 2022 23 mi dispiace dirlo per i fans di Vladimir Putin ma sono i miliziani russi che fanno queste porcate qua e appunto come dico mettono in movimento mezzo continente africano con tutte le conseguenze che vediamo. Al confine tra il Sahel e il Nord Africa e i paesi del Nord Africa arrivano le ONG per la maggior parte tedesche ma anche francesi prendono i migranti e li portano alla sponda meridionale del Mediterraneo quindi l'attività delle ONG non comincia in Tunisia in Libia o in Egitto per carità ma molto prima molto più a sud. Con ciò non voglio dire non voglio affermare che Scholz e Putin stiano lavorando assieme ma a riguardo del tema della migrazione c'è una convergenza di interessi che è però negativa verso l'Italia cioè una sinergia negativa per l'Italia. Detto questo uno potrebbe pensare che la soluzione sia semplice. La AFD è in crescita, Alternative für Deutschland, Alternative per la Germania è in crescita visto il malcontento popolare crescente dovuto alle politiche gretine del governo di Olaf Scholz e se la AFD dovesse riuscire a vincere le elezioni nazionali nel 2025 sarebbe la fine del finanziamento delle ONG. Vero, questo effettivamente è vero però questo sarebbe anche l'unico effetto positivo e il resto? Da quando la vecchia presidente Frauke Petri ha lasciato il partito la AFD si è trasformata in pochi anni a partire del 2017 in una AFR, Alternative für Russland, credo che non debba tradurlo, che non sia necessario tradurlo e oggi è letteralmente una AFD, Alternative für China, Alternativa per la Cina. Con una vittoria della AFD una delle due cause principali della migrazione di massa dall'Africa non cesserebbe, al contrario, la AFD nasconde questa causa, nasconde l'attività destabilizzatrice delle milizie russe. Questa collaborazione con Russia e Cina non è una questione di opportunismo o di tattica. La presidente e capogruppo della AFD nel Bundestag, nel Parlamento tedesco, la signora Alice Weidel, ha fatto consulenza per la Bank of China per sei anni a fila, dopo aver svolto il tirocinio presso la Goldman Sachs. Il capolista della AFD alle prossime elezioni europee, un certo signor Maximilian Kha, è la persona di contatto diretto con la Cina. Mentre Giorgia Meloni presideva la conferenza sull'Africa a Roma, Alice Weidel, Maximilian Kha e Peter Pistron sono stati in visita in Cina su invito ufficiale del regime cinese. Dico appositamente regime perché non è un governo. La Cina è una dittatura comunista con un sistema di capitalista di Stato monopartitico, quindi non è né una democrazia né un paradiso. E poi chi ha incitato giustamente i cittadini a protestare qui in Germania contro il lockdown e poi nello stesso tempo è fan della Cina mi sa che è un piccolo problema mentale ma lasciamo perdere. Allora Alice Weidel, Maximilian Kha e Peter Pistron vanno in Cina invitati ufficialmente dal regime cinese e fanno lì un incontro bilaterale. Ma bilaterale tra chi? Perché la AFD attualmente non è forza di governo, è forza di opposizione, in crescita ma è forza di opposizione. Non sono due capi di governo che si sono incontrati o due capi di Stato. E al momento la AFD promette la cosiddetta remigrazione, italianizzazione di remigrazione, con questo termine si intende il rimpatrio di massa dei clandestini per via aerea. E contemporaneamente la AFD più o meno ironizza sulla cosiddetta fallita di Roma. Sì, la AFD promette di rimpatriare in massa tutti gli immigrati non aventi diritto a permesso di soggiorno o di asilo nel giro di sei mesi. Dimentica però che ogni aereo di remigrazione ha bisogno del permesso di atterraggio dei paesi di provenienza. domanda quanti siriani rivolrà indietro Assad? Faccio presente che dal 2015, quindi dall'apertura delle frontiere illegale decisa da Angela Merkel, più della metà degli immigrati è arrivata in Germania senza documenti e si è fatta registrare tra viagolette come Muhammad siriano minorenne nato al primo di gennaio. L'ufficio federale per migrazione e rifugiati, Bundesland für Migration und Flüchtlinge, ha stirato la prima statistica a partire dal 2017. Quindi c'è gente che non si sa bene come sia stata registrata, cose pazzesche. Di questi qui, arrivati senza documenti che non si sa bene, sono siriani, cioè la loro identità non è riscontrabile, e non si sa neanche se sono effettivamente siriani, sono arrivati anche tanti africani, cioè dall'aspetto appunto della regione del Sahel. Io non so, non credo che la Siria abbia mai avuto così tanti lavoratori ospiti, cosiddetti, dall'Africa. Ma vabbè, lasciamo perdere. Il punto è questo. Un ipotetico governo Vidal. Assad e Vidal sono entrambi putinisti. In una disputa sulla remigrazione, se Assad dice no, io questa gente qua che non so se sono siriani, non so se sono stati membri del cosiddetto Stato Islamico, dell'ISIS, insomma di quelle milizie terroristiche lì, non li rivolgo indietro. In una disputa del genere, chi sarebbe il favorito di Vladimir Putin? Entrambi sono putinisti, Assad e Vidal. Però chi è che favorirebbe? Chi dei due favorirebbe Vladimir Putin? Perché non dimentichiamo, è una domanda aperta, non dimentichiamoci che la Siria ha un'importanza strategica fondamentale per la Russia. Vedremo. Tutto questo però non c'è nella propaganda elettorale della Alternative für Deutschland. Lo stesso discorso, la stessa cosa riguarda l'Austria e la pseudo-destra filo cinese della FPU di Herbert Kickl. Unica differenza? Al contrario della AfD, la FPU ha un filo diretto con la subcultura di destra in Austria e in Germania, la barriera linguistica non c'è, soprattutto con il cosiddetto movimento identitario, Identitäre Bewegung. Martin Zelna, il führerino del movimento identitario, non solo balla a suon del pifero del compagno Sputler, ma insulta direttamente Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia praticamente ogni giorno. Sul suo canale di Telegram non solo spara insulti gratuiti, non solo posta fotomontaggi di Rameloni con la maglietta Refugees Welcome o altre cose, allora è peggio di quanto facciano Travaglio, Berizzi e Saviano, ma asserisce che in Italia non esisterebbe una controcultura di destra. Quindi per Martin Zelna, Casa Pound, il blocco studentesco, Cultura Europa non esistono. Ovviamente questa è una balla colossale, ma l'autoproclamato führerino anti-atlantista che però ha sposato un'americana non ha digerito che Casa Pound, il blocco studentesco e Cultura Europa non sono putinisti. Riassumendo, la pseudo-destra putinista e filocinese in Austria e in Germania non tollera gli eretici eretici dal suo punto proprio di vista, per esempio chi sostiene la terza posizione. Non basta. Il movimento identitario conosce solo Evola nella versione travisata di Dugin e spaccia tale versione travisata come l'Evola originale. Forse non è un caso che questi amano la Cina, ma vabbè. Dunque questa gentaglia merita il titolo di Camerata Porco, Camerata in Schwein, si dice qui, né più né meno. Chi ha amici del genere non ha bisogno di nemici, bastano quelli. Domanda, lo sa Salvini? Chiedo perché la Lega è nello stesso gruppo parlamentare europeo, ID, o ID, identità e democrazia, insieme ad AFD e FPE. Lo sa Salvini? Non credo perché c'è sempre questo discorso della barriera linguistica, probabilmente parleranno in inglese insieme, che Salvini non sa il tedesco e chi che la Weidel non sa l'italiano. Non sa l'italiano. Però è una domanda abbastanza interessante. Ma concludendo, due paesi, Germania e Russia, stanno sabotando e destabilizzando l'Italia. A livello nazionale la politica tedesca attualmente è dominata da due schieramenti con il carattere di due sette religiose fanatiche, disuguali solo nel numero, i gretinisti progressisti e i putinisti filocinesi. E nessuna di queste due sette religiose ha un minimo di interesse a sostenere un progetto di sviluppo vero come per esempio il piano Mattei. I gretinisti vogliono solo energia eolica e solare, niente nucleare, niente energie fossili zero, ma quindi solo mulini a vento del terzo millennio o Daitan 3 con Arambengio in versione arcobaleno. E i putinisti filocinesi non pesteranno mai i piedi dei loro padroni. Basta! Questi sono letteralmente i lecchini di Putla e di Xi Jinping, né più né meno. Con loro non si può ragionare, con certi fanatici non si può ragionare, soprattutto se tu sei di destra ma non sei leccaculo né del compagno Sputla né del burattinaio cinese. Cioè questi sono ideologicamente lobotomizzati, la famosa sindrome del foruncolo mononeuronale lobotomizzato tra le spalle, e conoscono solo il falso paradigma be Russian or be gay. Cioè ciò che non è né russo né gay per loro è una bestemmia, non esiste. Loro fanno queste due categorie e dicono esiste solo uno o l'altro. Se tu dici un momento io non sono né russo né filorusso né gay né a favore del gretinismo o roba del genere. No, tu non esisti, non è possibile. Questo è fuori dalle loro capacità cognitive. Quindi non aspettatevi il sostegno da quei mentecati a tempo pieno. Bene, per oggi è tutto. Grazie per l'ascolto. Per favore fate girare questo video. Queste sono cose gravissime ma purtroppo sconosciute ai più per via della barriera linguistica. Poi vengono fuori le sorprese, delle amare sorprese. Bene, grazie ancora. Vi auguro una buona serata. Auguro a tutti voi una buona serata e a presto. Ci vediamo. Ciao. 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 Ciao.